Grazie a tutti. Quanto perché è una grande appassionata di Conrad, della letteratura in generale, ma Conrad in modo particolare. Vi ringrazio per la partecipazione, vi do appuntamento al 19 dicembre con il concerto di Natale, il laboratorio dello spettacolo il 28, non ve lo dimenticate, il concerto di Capodanno il primo dell'anno, il teatro invece, la stagione ricomincerà il 13 gennaio con il Nodo, uno spettacolo con Ambrangiolini, ma soprattutto ci faremo prima dell'incontro una cosa particolare, alle 18 nel foyer faremo una performance dal vivo dell'artista che ha la mostra qui di Corbani, quindi faremo una performance dal vivo alle 17 e 30, meglio, alle 17 e 30 alle 18 e poi facciamo l'incontro. Nel frattempo, benvenuta Daniera, siamo felici di averti qua e do la parola all'assessore. Bene, grazie infinite, sì Nicola ha detto appunto questa decisione di condurre stasera non solo per Conrad ma anche per Daniera. Ci tenevo tanto e il nostro percorso in questi anni si è incrociato tante volte e quindi mi faceva particolarmente piacere stasera parlare dello spettacolo perché tra le altre cose ne avevamo un po' parlato anche l'anno scorso, questo tema appunto sulla storia universale dell'uomo che si sposta e che appunto per motivi molto spesso lontani anche dalle sue volontà si ritrova poi catacultato in una società con la quale si deve in qualche modo integrare e affrontare. È un tema appunto che è tipico della storia dell'uomo e già l'anno scorso ne avevamo parlato, volevamo portare con questo spettacolo e quest'anno averlo in stagione è estremamente significativo. E quindi parto subito con il chiedere a Daniera come è nata la scelta di questo racconto, ce lo dicevamo ora, no? Cioè tutta la letteratura di Conrad è straordinaria ma in particolare appunto la scelta di questo personaggio e di questo breve racconto che poi è stato chiaramente trasposto per la versione teatrale. Quindi è già la seconda volta, l'altra volta abbiamo parlato della camera azzurra, quindi la trasposizione appunto teatrale di un'opera invece narrativa. E quindi siamo curiosi di capire come sei arrivata, se la scelta è stata tua e come con il regista poi l'avete in qualche modo trasformato. Allora, intanto buonasera, sono sempre contenta di venire a Follonica, fra un po' mi Nicola e la stessura mi danno la cittadinanza onoraria. Un po' di Mari mi rimane sempre attaccata addosso. Questo testo è un brevissimo racconto, molto piccolo, io stavo facendo tutt'altro, nel senso stavo facendo una commedia brillantissima al Puccini e per la passeggi editoria è stata tradotta, è stato tradotto da una mia amica, che è una traduttrice e mi portò questo libro la sera, era venuta a trovarmi e mi disse, guarda ho finito di tradurlo, tieni, è un racconto brevissimo, è bellissimo. E me lo disse con tanta enfasi, sai, se che te torni a casa e dici, ma lo legga, che aveva un'aria così potente. E me lo sono letto in una serata, è brevissimo, sono 30, ora non so che edizione hai te, ma è anche quella della Folle Passigli, fa vedere? No, è marsì, comunque nell'edizione è proprio breve. E fu abbastanza folgorante perché è una bellissima storia, una storia abbastanza tragica, però una storia davvero importante, come dicevi tu, proprio per quello che racconta. E in quei giorni, la scelta è nata in realtà, perché io l'avevo letto come un libro, come un racconto che mi era stato donato, ma in realtà è nata perché in quei giorni era successo, un fatto molto forte, ve lo ricorderete senz'altro, quando era stato trovato sulla spiaggia un bambino, si chiamava Aylan, chi dice Aylan? Era un bambino con una tutina rossa e fece molto scalpore all'epoca, se ne parlò su tutti i giornali, fu la fotografa, è stata pluripremiata e io avevo per l'appunto in casa, siccome sono abbastanza amica di un giornalista del manifesto che si chiama Gabriele Rizza, lui aveva fatto un numero monografico, il manifesto aveva aperto la pagina con questa storia di Aylan e io avevo per l'appunto un manifesto a casa e nel racconto di Conrad, siccome narra la storia di un naufragio, di un naufragio di una nave di migranti che vengono dalla Germania, sono contadini che vengono dai Carpazzi, quindi dall'est Europa, è stato scritto nel 1901, quindi all'inizio del secolo quando la gente si spostava, soprattutto per cercare l'oro in America, molti andavano là e c'erano due frasi, sono proprio due frasi piccole, dove si narra che sulla spiaggia il primo corpo che fu ritrovato era quello di una bambina e nel suo caso era una bambina con le treccine bionde e una tutina rossa e quando ho messo questa cosa e avevo questa immagine accanto, io pensai, oddio, questo testo viene a cercarmi, me l'hanno portato con enfasi, racconta questa piccola storia e raccontava davvero un fatto, tra l'altro è un testo bellissimo perché è grande letteratura, per chi non lo sa Conrad era polacco, però scriveva in inglese, non era la sua lingua, anche se ovviamente la parlava in un modo, scriveva benissimo, però mi è sempre piaciuto tanto Conrad, non so se anche a te, forse anche perché non essendo la sua lingua ha una pulizia di linguaggio nella scrittura, molto, molto anticipa tanto gli scrittori del primo novecento, proprio una scrittura abbastanza semplice e la sua forza è quella che lui non prende mai posizione, no? è uno che non traccia, traccia delle linee ma sono linee sempre molto fragili, molto labili e quindi c'era questo fatto e io dissi ma che bella storia, sarebbe bella raccontarla, da lì in poi è partito un casino perché era molto difficile, perché intanto in Conrad c'è sempre il narratore, in questo caso spesso c'è il narratore, quasi tutti i testi, in questo caso il narratore è un medico condotto che racconta la storia di Emi e di questo straniero e io non potevo fare questo medico condotto tutto il tempo, cioè non me lo sentivo il mio personaggio, allo stesso tempo non potevo neanche fare Emi, perché Emi è una figura ipertragica, una figura di una donna stolida, quindi abbastanza un po' la grulla del paese, l'abbiamo definita noi, che si innamora, che ha una storia con questo uomo naufragato e quindi ad un certo punto avevo anche detto basta, non la faccio, non trovo come fare la trasposizione, cosa posso fare io, poi una notte, boom, mi sveglio, sai quelle notti un po' dove arriva l'ansia, non so se a me mi arriva spesso e quindi mi sveglio e allora penso, no? Cerco di non pensare all'ansia e cerco di pensare alle altre cose e c'è, ci sono sempre due righe, so, 30 pagine in tutto, se quello è tutto due righe, perché anche Emi è un personaggio tratteggiato pochissimo, non è la protagonista, il protagonista assoluto è lui e il medico, Emi è davvero sullo sfondo del testo, se vi capita leggetevelo perché è veramente interessante anche come l'ha costruito, ma che cosa fa questo naufrago? A un certo punto salva una bambina e la salva dallo stagno dei cavalli, lei stava per affogare e io pensai, guarda, questo mi dà una grande libertà intanto di slegarmi da Conrad e poi pensai, essere salvati da un essere umano che viene considerato un animale in realtà per tutto questo piccolo paese sulle coste dell'Inghilterra dove lui arriva, in realtà è un salvataggio anche non soltanto fisico, no? Da una morte certa, ma anche proprio da una grattitudine, perché quando una persona ti salva tu non puoi che riconoscerlo come umano, è un atto di umanità massimo, no? E' questo che poi è tutta la diatriba di questi tempi, no? Salvare o non salvare le persone in mare, rimandarle o non mandarle in Libia, in realtà io penso che se capitasse a qualcuno di noi, chiunque insomma, che ha un po' di buonsenso, se vede una situazione e sente che può fare qualcosa, istintivamente l'essere umano ti porta a farla, quella cosa, no? A salvare. E io ho pensato ecco, forse questa storia può raccontarla questa bambina che è cresciuta ovviamente, immaginata da me, che come lei avrebbe potuto raccontare questo testo. E quindi è un po' questa bambina, mi sono sentita io, che poteva raccontare questa storia, che voi quando la leggerete è molto simile al testo, c'è tantissimo Conrad dentro, anche proprio come l'abbiamo scritto insieme a Valerio Nardoni, che è un poeta, un ispanista, insegna all'Università di Modena, un grandissimo scrittore. E lui, che ha scritto anche John Coltrane, non so se qualcuno di voi ha visto Coltrane, uno Stefano Cantini, Colcoco, Ares, tutto il gruppo dei Living Coltrane, è sempre stato scritto da Valerio Nardoni. E quindi ci siamo presi un po' di libertà nella narrazione ed è uscito questo testo, tanto che io, proprio perché ci siamo presi questa libertà, l'ho chiamato Emi, storia di un naufragio, perché è stato un po' anche in parte reinterpretato. È una storia, molti mi dicono, ma è una storia d'amore? Non lo so se è una storia d'amore, nel senso che io penso sempre che l'amore non faccia mai del male. In questa storia l'epilogo è molto drammatico. Credo che sia una storia di urgenze. Sono due persone, un naufrago, una donna, assolutamente ai margini della società, di questo piccolo paese, che si incontrano e in qualche modo fanno un pezzo di vita insieme. Non so se è soltanto quell'amore e basta, ma credo che sia una forma di amore, lo stare insieme, l'aiutarsi, con grande fatica, perché poi il paese non lo accetterà mai, insomma, fino in fondo questo naufrago. Bene, sì, questo è importante perché effettivamente capire come è stato affrontato il tratto effettivamente del racconto, che come fa spesso Conrad, lascia al narratore, quasi il fatto di voler descrivere in maniera distaccata e poi dopo lasciare al lettore l'interpretazione di tutto quello che c'è dietro a quello che lui sta raccontando dei fatti. Era un aspetto, infatti, che mi incuriosiva per capire, e forse l'idea di averlo spostato sulla bambina, però rispetta anche un altro aspetto. Io ho trovato straordinario il fatto che, come hai detto giustamente, si intitola Amy Foster, il racconto, anche se poi lui ha cambiato il titolo, era un altro in origine, ma di Amy Foster non si parla. Si parla fondamentalmente del protagonista e appunto questo naufrago, ed è il suo carattere come viene delineato, la sua storia come viene accolta dalla popolazione, come poi lei si avvicina. E a me ha colpito tantissimo il fatto che forse aver trasferito nel titolo il significato di un altro personaggio ha voluto accentuare quello che succede spesso, che è il dimenticarsi della storia principale. C'è quasi uno spostare, cioè aver dato il titolo ad un personaggio secondario, quando invece la storia parla di un altro, è quasi come averlo voluto cancellare questo personaggio, ed è forse quello che spesso succede nella nostra vita quotidiana, quando affrontiamo il tema dei migranti. C'è questo aspetto, e poi c'è una parte forse molto profonda, quando a un certo punto ti viene da riflettere, che quando ti trasferisci o quando hai una situazione di questo tipo, abbandonando tutto quello per cui sei vissuto, quindi tutto il tuo bagaglio di conoscenze, i tuoi affetti, anche se ti ricostruisci una vita, però questa non è mai quella che sarebbe stata nel tuo posto di origine, mai, quindi fondamentalmente per sempre sei destinato a una vita solitaria. e quindi forse appunto questa bambina, non lo so se riuscirà poi a tirar fuori tutti questi aspetti, però mi sembra che la scelta di averlo fatto raccontare dagli occhi appunto di un altro personaggio secondario sia stata una scelta estremamente felice. A parte grazie, perché non avevo mai riflettuto che il testo poteva essere uno spostamento rispetto al contenuto, cioè il fatto che diventava un estraneamento ancora più grande, però è molto bella come interpretazione, ora me la rivendo, no, non ci avevo mai riflettuto, cioè non l'avevo mai, l'ho sempre immaginato più che altro, sai, da un po' da teatrante come azione scenica, lei è poi determinante, insomma, nell'evoluzione di questa storia, per cui ho sempre pensato che lui le avesse dato, le ha tolto il protagonismo dentro, non è che era tanto buono le donne, quindi non era proprio uno che, insomma, le trattava benissimo, era anche un uomo dei primi del secolo, la sua vita è stata una vita complessa, alcuni dicono che è addirittura autobiografico questo, che lui si è sempre sentito isolato, non si è mai sentito in inglese, polacco, non si è mai sentito, insomma, un uomo che ha viaggiato tutta la vita in mezzo ai mari, i navi, quindi non era, era uno, insomma, che probabilmente soffriva di questa solitudine. Sì, in realtà, credo che la difficoltà di accettarsi e di accettare le differenze sia sempre immensa da quando il mondo è mondo, non è che a noi ci trattavano bene quando mi gravavamo, insomma, no? Ci sono racconti, basta leggere Lourda di Gian Antonio Stella, che ne fa una risostruzione, ma, insomma, basta leggere la storia, non è che bisogna andare troppo lontano, un libro di storia ce lo spiega bene. Mi sembra un po' strano oggi, perché in realtà noi l'abbiamo lavorato su questo testo è quasi tre anni fa, l'inizio, diciamo, è partito quasi tre anni fa. Ci sono delle volte in cui quando lo rifacciamo ho la sensazione che sia già un po' vecchio, non so, perché, per esempio, cioè, sul finale a un certo punto c'è una parte scritta da noi, non scritta da Conrad, che chiude lo spettacolo. Io dico, se affonda una nave di migranti, piange tutta la nazione. E fino a due anni fa, fino a tre anni fa, quando c'era la storia di Aylan, era ancora abbastanza così, ci eravamo sconvolti della morte di quel bambino. In questi ultimi giorni, ne sono accaduti tanti altri bambini, non solo adulti, gli adulti non se ne stanno neanche a parlare. Ma è questo, e la reazione è sempre come una certa, tipo di assuefazione, no? A quello che accade, a volte anche di stanchezza, un po' perché anche noi abbiamo le nostre, un po' perché i giornali, hai visto, ci vuole Salvini per parlare dei migranti, se no ci si dimenticano un quarta pagina. E quindi è sempre molto, molto complesso parlarne. Due anni e mezzo fa aveva un senso, oggi ne ha acquistato uno ancora nuovo. Mi sembra di raccontare questa storia in modo ancora nuovo, no? Dopo tutti i fatti che sono successi. Insomma, sono due anni che noi abbiamo vissuto, cioè io non lo so, io pensavo adesso, ho detto, ma noi siamo pazziti tutti, cioè cosa sta accadendo, no? E quindi, come dire, ho sentito un altro tipo di urgenza da quella con cui era partito, come se, però succede un po' sempre agli spettacoli, no? Che evolvono, in base anche, soprattutto quando trattano temi, comunque che ci riguardano, che ci riguardano tutti i giorni, che riguardano la nostra quotidianità, anche problemi sociali che affrontiamo tutti i giorni. E quindi, insomma, è stato, è un po' un parto particolare. Tra l'altro, anche come l'abbiamo realizzato, perché ovviamente, per me è il primo monologo, proprio monologo della mia vita, non avevo mai fatto monologo. Ho sempre pensato, lo penso tuttora, nonostante io abbia fatto il monologo, che il teatro sia collettivo per eccellenza, cioè, nel senso che, un conto è il racconto, un conto è il teatro, quando vedi, cioè, c'è una parte immaginifica, magnifica, del teatro, e me, tutte le volte, quando vado e vedo, tutti gli attori, si muovono, parlano, leificano, si amano, mi sembra una roba, ancora le macchinerie, teatrali, un cienalera, e quindi si riduce sempre di più, da dieci attori, otto, po' sette, po' sei, po' due, po' uno, poi fra un po' vi si racconta da casa, al telefono, volevo dirgli la storia, e quindi è sempre tutto molto complesso, però c'era un aspetto, ho detto, ma a 50 anni, se non lo fa 50 anni, non lo fa, no? Con un testo, mi era venuta a chiamare a casa, no? Mi aveva bussato proprio alla porta, ho detto, e abbiamo pensato anche alla scena, che spero che vi piaccia, una scena abbastanza semplice, spesso i monologhi, immagino ne avrete visti tantissimi, sono spesso fatte con poche cose, anche qui, sono poche, però io volevo ricreare un po' questo mare, questo posto, questa dimensione anche sognante, di un mare che diventa tempestoso, ma che è anche un mare accogliente, abbiamo fatto un lavoro, insieme a Beatrice Ficalpi, che è la scenografa, e anche che, la datrice Luci, ha fatto la parte l'omenotecnica, con il regista Matteo Marsa, abbiamo lavorato tantissimo stracci, dipinti, reti, abbiamo preso dei pali, da una rimessa di legno, pali però vissuti, non sono scenografati quelli, e gli è stato davvero solo lignifugo, perché se non si lavora, però, proprio, le abbiamo andato in una rimessa, scelti una a uno, quello un po' più torto, che avevano passato lì inverni, no? Che mi sembrava che ci avessero un po' di questo uomo, e di questo naufrag addosso, ecco, e quindi, insomma, è stato un percorso particolare, parecchio piacevole, insomma, c'è un aspetto, c'ho anche voglia ora di fare delle ose, mi garbano anche a me, no? Insomma, a 50 anni fa, tu mi dici anche a godertela un po', no? A dire, no, sai che io provo a proporre uno spettacolo anche diverso, no? Da come normalmente sei abituata ad essere vista, o immaginata, quindi tante commedie brillanti, la televisione, le fiction, eccetera, mi faceva piacere, insomma, è uno spazio di grande libertà che mi sono presa, e che sta andando bene, ha avuto un bel riscontro, e poi, non potevo, non avere, ovviamente, accanto a me, il vostro concittadino, insomma, che è Stefano Cocco Cantini, con cui sapete, io lavoro ormai da dieci anni, anche di più, in pianta praticamente stabile, perché articolo femminile, e poi John Coltrane, e poi questo, e poi adesso il monologo nuovo, che debutta il dieci gennaio, forse, se lo imparo tutta a memoria, al Puccini, dove ci sarà, invece sarà in scena, questa volta Stefano, e poi avevo chiesto a Stefano, a un certo punto, c'è un pezzetto, lo sentirete, sentirete una voce, a un certo punto, che canta, e in questo viaggio, di questo uomo, durante il viaggio, che lo porta, dai Carpazzi, poi la Germania, e poi, le coste dell'Inghilter, di Valentina Toni, anche lei, che trovo sia, una voce straordinaria, ogni volta mi commuove, e quindi, insomma, è stato un po' follonichese, in qualche modo, tra l'altro, è stato interessantissimo, come abbiamo lavorato con Stefano, ogni volta cambia, perché io, l'abbiamo scritto, insieme a Valerio Nardoni, riguardato, con la regia di Matteo, e poi, siamo andati a casa di Stefano, e io l'ho letto, e lui ha suonato, non è che ha detto, gli ho detto, ti mando il pezzo, noi non riusciamo, sai, tanto, e le ha suonato, e aggiustavamo, e lui diceva, qui ci sento questo, poi si è pianto, poi in alcuni momenti si è risso, perché io ancora non ce l'avevo, per cui mi venne da piangere ogni riga, e quindi, insomma, è stato proprio un parto in divenire, e poi dopo lui l'ha risistemato, ovviamente, risistemato le musiche, e le musiche sono sempre importanti, c'è degli spettacoli, ma delle musiche tremende, e uno dice, ma è una musia brutta, e invece ecco, grandi musicisti come Cocco, ti permettono poi, di avere sempre una grande qualità, quindi anche se te, insomma, è un po' come Shakespeare, capito, tanto si casca sempre Ritti, quando si fa Shakespeare, una volta avevo fatto Riccardo Terzo, e anche lì tutto da sola, insomma, con dei musicisti, e uno mi disse, ma c'ha paura, ma tanto c'è Shakespeare, ma che paura vuoi? le parole sono talmente belle, le posto anche di male, tanto lui riesce a chiacchierare da solo, indipendentemente da me, per cui, come dire, ti de-responsabilizzi, no? E quel Cocco mi de-responsabilizza sempre, perché poi riesce sempre a fare una qualità musicale, talmente, sì, anche come nasce proprio, è proprio viscerale, non c'è niente di nato strutturato, era proprio sulla parola, sull'onda dell'emozione, che arrivava lì, quindi è stato proprio bello, un bel momento, insomma, proprio per noi, come lo sarà, anche col monologo prossimo, è un rapporto proprio, i jazzisti lo chiamano interplay, no? Che vuol dire suonare insieme, sentirsi, suonare insieme, ecco, a volte succede anche con gli attori, quando si va bene, che a volte c'è dei musicisti, sono sordi, e a volte c'è gli attori e gli attrici, sordissime, e anche a me mi è capitato, adesso è sorda, e non è che dico degli altri bassi, nel senso, non è che sempre sei bravo, all'altezza di tutto, insomma, io mi sento sempre in cerca, per cui, l'altezza, diciamo, l'arte è qualcosa, che si tocca ogni tanto, e io penso di essere una buona mestierante, di fare dignitosamente il mio lavoro, gli artisti, insomma, è un'altra cosa. Grazie. Questo aspetto, di come è stato costruito, è molto importante, perché poi, credo che ritorni tanto, davvero, cioè se c'è un rapporto così stretto nella costruzione di una partitura, sia musicale, che è teatrale, poi effettivamente, insomma, il risultato è davvero emotivamente più forte. Invece, volevo affrontare il tema dell'accettazione, cioè, che è un tema universale, qui come quello che succede oggi, tutti i giorni, cioè, il diverso, come viene accolto dalla società, nel caso specifico, appunto, del paese, nel quale arriva, considerate che questo, appunto, non parla una parola, d'inglese, si esprime in una lingua, nel racconto, appunto, di Horrad, che per lungo tempo, gli abitanti non comprendono, non riescono nemmeno a capire, da dove provenga, e quindi, l'aspetto del linguaggio, è fondamentale, per stabilire il primo contatto, quindi, questo primo contatto, non ci riesce ad essere, per tanto tempo, fino a che, appunto, lui usa un escamotaggio fantastico, e quindi, all'inizio, ti fa molto apprezzare, Amy Foster, che è quello, dell'immaginazione, cioè, l'immaginazione di Amy, è la chiave, per il quale riesce, ad entrare in contatto, con questo personaggio, e quindi, te, inizialmente, ti aspetti, appunto, una persona, pronta, ad accogliere, dinamica, poi, in realtà, poi, non sto a spoilerare, il finale, ci accorgeremo, dei limiti, a mio avviso, culturali, che chiaramente, è a mia, e per cui, questo gancio, dell'immaginazione, non arriva fino a un fondo, però, l'aspetto, appunto, dell'accettazione, è un aspetto, fondamentale, anche oggi, nei confronti, del diverso, di chi arriva, e di come ci si deve, rapportare, effettivamente, con lui, e quindi, volevo, lì, nel romanzo, viene trattata, attraverso gli occhi del medico, attraverso gli occhi, delle pettegole, e della persona, che poi, appunto, lo prenderà a lavoro, e che, esatto, quindi, ognuno di loro, ha un modo, di accettarlo, chi vuoi, per curiosità, perché, appunto, sono gli anni, che comunque, Corrad descrive sempre bene, di una società inglese, che è attratta, dallo straniero, e quindi, a quel punto, forse, pensa, che possa essere, l'occasione, per scoprire, attraverso lo straniero, un altro mondo, oppure, appunto, quella di Emi, più semplice, un'attrazione fisica, e poi, appunto, questo aspetto, dell'immaginazione. Ecco, questo aspetto, dell'accettazione, viene quindi, e quindi, i diversi modi, per cui, ciascuno di loro, si è, interposto, con lo straniero, viene affrontato, nel, nel, lavoro teatrale. Sì, viene affrontato, in molte parti, per esempio, anche lì, pochi spunti, che Corrad dava, io li ho ampliati, per esempio, a un certo punto, questo uomo dice, questo vecchio, swaffer, che poi, è il nonno, della bambina, che viene salvata, di questa Berta, che poi, è la protagonista, nel mio spettacolo, non nel testo, e, praticamente, a un certo punto, lui dice, il dottor Kennedy, dice, non so, se il signor swaffer, abbia mai capito, di quanto, questo uomo, lo considerasse, come un padre, no? Cioè, era l'unico, che si era preso con sé, e io, ci ho scostruito, un piccolo pezzo, insieme a Valerio, quello, in realtà, l'ho scritto, proprio io, in cui, a volte, trovi dei nuovi padri, da qualche parte, nel mondo, no? Delle nuove madri, capita di trovare degli amici, l'accettazione è un problema grandissimo, non so, io, mi piace sempre non chiamarci diversi, ma differenti, perché, l'unica diversità che io riconosco, è solo biologica, fra l'uomo e la donna, nel senso, uno c'ha il pisello, e quell'altro ce l'ha, e, e questo è la diversità massima, la cosa ci incasina di più, in mondo, perché riuscire ad avere una relazione degnitosa, con l'essere diverso, cioè il maschio, per noi, e poi per la donna, è complesso, è difficile accettare, delle persone che vengono da un altro mondo, che vengono da un'altra cultura, che vengono, che hanno un'altra lingua, che hanno, io, insomma, ho girato abbastanza, mi ricordo, un periodo in Congo, avevamo aperto un ospedale per i bambini sordi in Congo, per cui ci sono stata quasi un mese e mezzo, c'era delle volte, era anche molto difficile capirsi, ma capirsi proprio rispetto, per esempio, al lavoro, no? Cioè, hanno un modo di vivere la giornata, il tempo, la vita, è completamente diversa, e, e io dicevo, ma guarda, ma rimetti a posto quell'armadietto, ma lui lo vedeva nemmeno, questo caso armadietto, proprio, nel senso, per lui, non era così importante, forse non l'hanno avuto un armadietto, capito? Quindi, c'era la mia, ero io contro, cioè, ero io contro di lui, e lui contro di me, perché, come mi disse giustamente, un ragazzo di colori, guarda, che noi per voi siamo neri, ma voi per noi siete bianchi, cioè, nel senso, che non è che, cioè, la diversità, cioè, le differenze, le complicazioni, sono da tutte e due le parti, io credo che, però, non ci sia, nessun'altra, meravigliosa strada, che mischiarci, cioè, non riesco a immaginare, un mondo, dove io, intanto, perché non esiste, cioè, studi scientifici dimostrano, noi siamo tutti africani, e che a volte, dal punto di vista del DNA, io sono molto più simile, magari, a un nigeriano, o a un cileno, che è uno di Firenze, che sta in piazza delle cure, dove abito io, no? Quindi, non esiste, cioè, noi siamo mischiati per natura, e abbiamo un DNA, multi etnico, per nostra natura, quindi, e credo anche, che per me, è una roba meravigliosa, cioè, io non riesco a immaginarla, la mia vita, senza, persone che vengono, da un altro paese, persone che ti portano, ad un altro mondo, con tutte le difficoltà, del caso, poi esiste, l'aspetto tragico, cioè, noi viviamo, in una parte del mondo, dove, nonostante grandi problemi, nonostante povertà, disoccupazione, situazioni complicatissime, di cui dobbiamo tenere conto, perché non è che, anche noi stiamo sempre tutti bene, insomma, in Italia, la povertà è alta, altissima, e sta in aumento, quindi, questo, però, questo non significa, che non ti debba permettere, di accogliere, come dire, e di dare, di fare un po' di spazio, e di condividere, la vita, con persone che scappano, ci sono dei paesi, che non esistono più, io ho fatto un documentario, ho prestato la voce, ho un documentario, su Aleppo, in Siria, non c'è la Siria, non c'è più, cioè, è un paese, ci sono solo, rovine, ci sono solo bimbi, che piangono, gente muore, e io penso, che se mi succedesse a me, noi già, col terremoto, in Mugello, siamo andati tutti nei pazzi, sembrava, che avessimo, pezzo a casa, non era, ne sono state, abbiamo avuto la fortuna, che sia stato leggero, no, però già lì, era diventato, io non riesco neanche, a immaginare, cosa possa essere, vivere sotto le bombe, vedere la sua famiglia, e muore, cioè, penso che, ti va di andare, a cercare, un altro posto, dove far crescere, le persone che ami, e dove crescere te, io lo trovo, sacrosanto, un diritto, vivere meglio, lo trovo un diritto, così, e trovo anche, che c'è un errore, storico, enorme, e della sinistra, e anche di tutta l'Europa, perché noi abbiamo scritto, la carta dei diritti dell'uomo, l'abbiamo scritta noi, in occidente, una carta bellissima, che parla di diritti, e di possibilità di accoglienza, però poi, a un certo punto, si ferma, e comincia a dire, ma te da dove vieni, a te non tanto, te sei dalla guerra, sì, bene, povero e basta, no, povero e basta, rompi le palle, ritorna in Libia, e te, cioè, nel momento in cui, noi smettiamo, di accogliere, un povero, semplicemente, perché cominciano, nulla a mangiare, perché c'ho fame, c'è, ho fame, non ho niente, in quel momento lì, noi abbiamo perso, è una battaglia persa, è una battaglia umana, persa, per cui, credo che sia l'unica possibilità, che abbiamo, quella di, di aprire le braccia, e cercare, con una politica, sicuramente, è difficilissimo, io non vorrei essere, qualcuno che amministra, a Castelnuovo, hanno preso, dei ragazzi, stranieri, e non è stato detto, per mesi, perché lui li ha accolti, però non sapevano, come avrebbe reagito, la popolazione, è complicato, avevano un posto, dove potevano stare, poi ci sono speculazioni, il nostro paese, il mondo sta cambiando, però noi abbiamo, vissuto una generazione, io, insomma, a 50 anni, immagino anche voi, insomma, siamo tutti abbastanza, attempati, non vedo pischelli, di 20 anni, sì, uno laggiù, ecco, uno laggiù lo vedo, però, anche meno di 20, quanti scenari, amore? 17? Però, noi abbiamo visto, una generazione, dove si buttava, i gemori, cioè, e mi zio era stata a Dachau, tornò, era 36 chili, con un'effisema polmonare, un'emma più guarito, insomma, no? Cioè, due fratelli di mio bambino, furono portati in Germania, c'è, abbiamo buttato il muro di Berlino, la guerra fei, cioè, noi abbattevamo, cioè, abbiamo vissuto l'inebria, siamo stati inebriati, anche dalla possibilità di rompere le frontiere, l'Europa, ma vi ricordate quando si andava in giro, cioè, che ci schedavano a tutte le frontiere, sembrava ad essere, e cambia soldi, e leva i soldi, cioè, questa grande possibilità di avere una terra comune, una possibilità di spostarsi, mia niposa è in Inghilterra, ha studiato, a Cambridge, ora lavora l'asta, là con la sua fidanzata, c'è la possibilità, no? Ora, non capisco perché questo debba essere negato a metà dell'universo, a metà del mondo, questo non è possibile, per cui anche se spendono 5.000 euro per mandarli su un barcone, diventano tutti poveri, perché non so se sapete come funziona, ma tutta la famiglia, spesso allargatissime, mettono i soldi da parte, scelgono, te mi sembri migliore, il preintelligente, secondo me ce la puoi fare, investono tutto su di lui, lui parte con un senso di colpa, pazzesco, perché tutti si sono levati tutto, per darlo a lui, quindi, o a lei, ha ora tante donne perché la migrazione è molto femminile, e quindi deve cercare di restituire questo, per migliorare casa sua, ed è tutto molto, molto difficile, allora penso, mi chiedo, dove sta la difficoltà di progettare delle possibilità nuove, non lo riesco a capire, io sono onesta, cioè penso che uno che fa politica, dovrebbe saper fare questo, dovrebbe saper vedere avanti, essere anche un po' poco popolare, e dire, trovo soluzioni, ci sono, io sono sicura, che una soluzione c'è, e prima di tutto culturale, è vero, poi c'è anche le urgenze pratiche, perché per cambiare la cultura c'è un sacco di tempo, e come gli dissi a una, si parlava della questione di genere, uomini, donne, parità di diritti, parità di salario, e una fa un problema culturale, sì ho capito, ma intanto scrivi per legge, che lei deve guadagnare come lui, ma non è bello, ma a me ne frega nulla, a me me lo metti la quota rosa, poi dopo, quando lei guadagna come lui, si starà a vedere, insomma, se ne ridiscute dopo, ma tanto se deve aspettare che, poi il lavoro va fatto, io vado nelle scuole, così come me, anche persone molto più autorevoli, lo fanno, però ecco, credo che questo, sia un problema, credo che noi dobbiamo cambiare la mentalità, e non mi va bene, soltanto, perlomeno per me, parlo per Daniela, e dire sempre, ma è successo anche a noi, ma, cioè, non è perché, non è successo, è perché è così che si fa, è così che siamo brave persone, è così che siamo delle persone per bene, delle persone che vedono gli altri, che non vivono nell'indifferenza, come diceva il nostro Gaber, e che lo fanno perché ha un senso, poi non posso dirvi che anche a me, non mi rompe le palle, trovare tutte le volte, quelli che per la strada ti chiedono i soldi, a volte gli dici di no, non tutti so per bene, c'è delinquenza da loro che c'è da noi, insomma, con tutti i problemi del caso, e con le differenze, però, poi arriva un momento che, se è nero, è nero, cioè, qui stiamo ancora a discutere, se il colore della pelle va bene o no, perché poi ti sembra sempre un problema lontano, e due settimane fa, sotto il passaggio di casa mia, sotto il passaggio particolare, anche voi avete un posto dove avete fatto i murales, vero? E lui, praticamente sotto il passaggio c'è i murales, e cambiano in continuazione, c'è uno, è un uomo abbastanza borderline, che lo tiene, e poi c'è sempre un ragazzo di colore delizioso, uno di quelli proprio divertenti, sai, molto simpatico, davvero, una persona piacevolissima, che saluta tutti, c'è una scuola vicina, che c'è tutti i ragazzi, insomma è stato picchiato a botte, l'hanno preso a botte, ma proprio tanto, e io ho pensato, ecco, ora apri la finestra e accade accanto a casa tua, quando tutto è così diffuso, quando questo clima si diffonde così tanto, arriva sotto casa anche, che è lì vicino a te, a tuoi piedi, e allora lì c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va, penso che si dividono i bambini nelle scuole, ci sono delle mamme che hanno tolto i bambini perché c'era troppi immigrati, c'è qualcosa che non torna, poi la scuola non si investe nella scuola, non si investe nella ricerca, però miriamo bene, secondo me, quali sono gli obiettivi con i quali ancora ci merita combattere, insomma, e invece si sposta il problema. Sì, mi sembra che abbia veramente centrato la questione, tra l'altro appunto noi oggi volevamo parlarne anche con il sindaco Andrea Benini, con il quale abbiamo in questi anni affrontato tutte le politiche appunto del, non soltanto dell'immigrazione, comunque diciamo così anche delle difficoltà che ci sono appunto anche all'interno dell'atto stesso, nucleo di società e poi oggi però gli hanno spostato una data importante a San Benedetto del Tronto, per cui poi detto fra noi non ci sente nessuno, solo la diretta Facebook, quando c'è lo sport per l'omini, c'è lo sport per cui stiamo a firmare la Tietena Adriatica a San Benedetto del Tronto, ma però gliel'hanno spostata davvero perché era in un altro giorno. E quindi era comunque, magari importante per lo qui ma quello che appunto hai ampiamente raccontato è quello appunto che un po' ci contraddistingue e che molto spesso, come dire, sta dietro però a un aspetto culturale, secondo me legato proprio alla mancanza di immaginazione, cioè di andare oltre e di provare a stabilire un contatto con queste persone. Il romanzo a un certo punto inizia con una descrizione che a me mi è piaciuta molto e che per l'appunto, pochi giorni dopo, si è materializzata in un altro, che consiglio a tutti di leggere perché è un capolavoro, piccolissimo libro di Emanuele Carrère, altrettanto 40 pagine, che è un reportage fatto da Carrère, che è appunto uno scrittore che un po' come Conrad si pone su un'altra prospettiva, cioè non affronta mai il tema in maniera rettilinea, si mette da un'altra prospettiva e prova a vederlo secondo un'altra tangente. E lo stesso fa con questo libricino che appunto è a Calais, dove lui va come inviato per scrivere appunto un reportage sulla situazione di Calais. Molti di voi sapranno, insomma, la situazione c'è a Calais, il campo profughi che viene chiamato la giungla e questo come ha influito poi sulla crescita o lo sviluppo dello stesso paese. Insomma, Calais era una cittadina, tra l'altro, oltre a essere il punto di partenza per la Gran Bretagna, aveva tutta una sua tradizione legata all'industria dei merletti, quindi insomma era comunque... E' vero che rispetto a come ce lo immaginiamo noi, il nord della Francia è il sud dell'Italia, cioè per loro c'è anche il famoso film Benvenuti al nord, perché effettivamente per loro essere mandati al nord è come essere spediti nel seggio al nord, nella profonda meridione italiana, però in realtà perché sono comunque legati a grandi tradizioni e in qualche caso stanno anche bene da un punto di vista economico. E poi lo dirò dopo perché conclude Carrère con un'osservazione che è molto vicina a quella che dice Conrad, a un certo punto quando il medico descrive. Intanto parte dicendo, gli uomini che incontravamo procedevano, ora sta raccontando la situazione che ha intorno, quindi è una descrizione dell'ambiente, Gli uomini che incontravamo procedevano lentamente, seri, con gli occhi bassi, come se la malinconia della terra oppressa avesse appesantito i loro piedi, piegato le loro spalle e costretto il loro sguardo verso il basso. Sì, rispose il dottore alla mia osservazione, si potrebbe pensare che la terra sia colpita da una maledizione, visto che di tutti i suoi figli quelli che più le sono attaccati hanno i corpi rozzi, l'andatura pesante, come se il loro stesso cuore fosse appesantito da un carico di catene. Questa è la descrizione della gente del posto. Eppure qui, proprio su questa strada, tra questi uomini grevi, avresti potuto vedere un essere agile, flessuoso, con gambe e braccia lunghe, dritto come un pino, con qualcosa nell'aspetto che tendeva verso l'alto, come se il cuore dentro di lui fosse in grado di galleggiare. Quindi il nostro naufrago è descritto in contrasto con la popolazione del luogo come un essere pieno di gioia. E Carrère chiude, a parte, alla fine ti ci porta a questa conclusione, dicendo la stessa cosa. Cioè, quello che c'è nella giungla e che si respira è l'energia della vita, in contrasto con tutto, la città intorno, che invece è cupa, morta, e invasa dal senso della paura. Quindi forse questo cambiamento di prospettiva alle volte ci pone di fronte a questa domanda. Quindi la nostra paura può essere generata dal fatto che vediamo in chi arriva un'energia, una forza, una vitalità, un desiderio di ricerca che forse qualche volta noi abbiamo dimenticato. Che bello! Poi abbiamo messo un caleggio reale, non c'ho tempo in questo periodo. Praticamente penso che sì. Quella è la descrizione. Noi non ci siamo soffermati tanto sull'aspetto fisico di questo naufrago, di Ian, così, chiamo così, perché come dire, era anche abbastanza difficile, scome io in una parte lo faccio, comincio a dire aveva le gambe lunghe, uno dice, ascolta, ma che la dici? No, scherzo. Ma non è tanto per quello. Però è vero che lui è rappresentato in questo modo, con questa giacca che tiene sempre, lo distingue dagli altri. Nel testo noi diciamo il suo essere straniero è indelebile, che non lo conosce, si gira sempre a guardarlo. E un po' succede anche a noi, no? Le riconosce? Lo straniero si riconosce quasi sempre, no? Qualcosa della sua terra se lo porta attaccato addosso. Io non ho una visione, come dire, che la giungla in un modo e la città in un altro. Penso che il capitalismo sia un problema, che il neoliberismo sia... Insomma, credo che abbiamo, qualcosa abbiamo toppato in questa generazione d'Occidente e quindi che sia un problema politico, anche come abbiamo mostruito le nostre città. Nello spettacolo nuovo, ora spoiler, tanto, nessuno è più cibi di voi, nello spettacolo nuovo facciamo un pezzo finale dove è un po' più brillante. Non è come. Insomma, dove io dico, parlando da... ho letto due libri di un economista senese, siamo a Bartolini, che scrive il manifesto quella felicità e lui l'ha letto e allora lui dice a un certo momento che a varietà di crescita economica c'è una decrescita pazzesca del benessere. Cioè, proprio, la gente sta peggio. E lui parte dicendo uno, nel riconoscere gli altri come antidoto, due, nel costruire spazi in modo diversi, piazze che sono state chiuse e invase da rosonde dove si gira per andare da un'altra parte ma non si sosta mai, non c'è mai un momento dove si sta lì su una panchina, no? Io e lei non ci siamo visti e diciamo e va il signore tutto bene a casa e il suo marito ha fatto incazzare e lei mi dirà sì signore e quindi i soldi che sembrano stereotipo e non comprano la felicità la rendono dignitosa nel senso che un po' ci servono sempre ma l'accumulo non ha mai l'accumulo in eccesso come il niente quindi diventa una corsa e allora corriamo corriamo per cui in questo senso sì per esempio in Africa qualcuno di voi è stato in Africa non lo so non so se vi è comunque siete stati io non so che sensazione avete avuto voi però io sono stata solo in Kenya lavoravo era una ragazza ero giovane e appunto in Congo poi otto anni fa però ho avuto la sensazione di un ritmo cioè al di là della bellezza il cielo l'equatore le stelle i bambini l'orizzonte che non esiste quindi ti guardi e di là vedi e dici dove finisce la terra che io sono abituata a un certo punto c'è le colline di Fiesole e Firenze a un certo punto si ferma poi tu dici dietro le Fiesole si va da un'altra parte lì c'è l'orizzonte l'ho esterminato questa roba ti toglie il fiato e poi c'è un senso che è il ritmo della vita che va così cioè ci si alza si prende il nostro tempo non hanno non avendo dieci ore di lavoro al giorno che è anche un problema perché è quello che poi e lì sono rimasti fregati da una parte e sono rimasti fregati dall'altro ne siamo rimasti fregati anche noi capito quindi se la via però io mi chiedo è nel mezzo è nel mezzo se la via è nel mezzo fra quello perché io una volta gli ho dissi guarda perché voi mi disse un congolese eh ma noi se non c'eravate voi eravamo ancora sui banani e io gli ho detto senti da una parte è così dall'altra scende da più i banani è come alle nuove generazioni ora dici sì ho capito se hai depresso non c'avete futuro ma ve lo prendete il futuro è molto difficile quando sei depredato dall'inizio alla fine perché basta andare in una miniera di coltan dove c'è i biembetti così che lavorano e muoiano a grappoli devo dire oppure quando l'Enel va a fare mettere l'acqua e che in zone dove stavano benissimo non avevano nessuna intenzione da noi che non c'hanno più acqua non bevano e non riescono più nemmeno ad irrigare solo perché devono far pozzi e far passare l'acqua per altre parti dove ci sono i soldi quindi insomma la storia è molto complessa detto questo c'è una parte in cui sono state fregate non c'è dubbio però c'è un'altra parte che per te che arrivi da una corsa frenetica tutti i giorni non c'è un'altra parte e corri e corri quando si va e a volte mi domanda io corri la mattina la sera io non so ora qua con le medie con il mio figlio l'alle medie ragazzi è un incubo è tutta una corsa per cui ho detto ma probabilmente forse un po' bisogna anche fermarsi cominciare a riguardarsi un attimo negli occhi a dire ma insomma come stai a chiedersi anche come stai e nello spettacolo scrivo dico questa cosa e poi racconto un fatto che mi è successo che una volta ero è proprio insomma ora è proprio uno spoiler il resto da 2000 però io tornavo sulla abitavo facevo distretto di polizia all'epoca andavo sulla frenestina abitavo là vicino a Cinecittà e prendevo sempre un tram la sera e al 4 era un freddo stranamente perché Roma non è mai proprio freddissima era particolarmente freddo c'era la nebbia questo tram a mezzanotte o passava insomma perché è sempre stato sì da che storia è storia che lì non funziona e c'era un ragazzo cingalese lo vedevo sempre che vendeva le rose e allora ci si chiesto e veniva a salutarsi sai quando ti vedi sempre io lo faccio anche lo faccio anche due volte a settimana e una sera gli dissi ma come ti chiami sai comincia a parlare mi chiamo Joseph e che fai poi a un certo punto gli dissi ma Joseph ma che fai in mezzo alla nebbia no insomma vieni da una terra e poi gli dissi ma non ti manca casa tua e lui mi disse sì tanto mi mancano le canoe mi dissi e io pensai le canoe ma che sono le canoe cioè io mi sembra un mondo incredibile cioè a te tipo sembra possibile no che ti manchi le canoe cioè e io ho pensato per un attimo ho visto casa sua ci va pochissimo no a fermarsi un secondo a fare una domanda a uno quando ho fatto lo spettacolo sulle badanti sulle badanti con cui ho girato abbastanza dopo un'indagine lunghissima con tutte le donne che svolgono il lavoro di cura ma anche lì mille contraddizioni ora poi mi serve a me da dieci anni ve lo dico quindi mille contraddizioni niente di edulcorato ma tante donne sono delle donne anche in gambissima che rendono la nostra vita molto più semplice e molte di loro quando io ci parlavo mi dicevano sai alcuni io sono in una casa ma non sanno sanno che sono albanese ma non sanno di che paese sono non me l'hanno mai chiesto del mio paese c'è gli albanesi poi c'è i nigeriani poi c'è i congolesi no è difficilissimo dire ma qual è tu ma come è fatta la casa sua no come vivi come è no che è un po' quello che dice Ianco a un certo punto gli manca proprio la sua terra no che ti manca la terra e c'è una donna senegalese che faceva il lavoro di cura alle senegalesi drammaticissimo perché cucinano in tutto un altro modo arrivano in casa i brodini non lo sanno fa le somali poi perché in Somalia stirano gli uomini senti un po' per cui quando arrivano qua non gli si chiede stira e loro non hanno mastirato perché le stirerie sono maschili per cui figurati poi gli dai anche la paporella c'hanno nemmeno la porta in casa per cui spesso per le africane è più difficile per questo perché davvero hanno vissuto c'è proprio problemi seri di come hai vissuto come vivi a casa come mangi cioè già hai visto le rumene le donne dell'est insomma siamo più vicine anche no come tipi d'altra parte io però giustamente cioè il mio babbo la mia mamma stanno male o l'alzheimer non è che posso dirgli ora gli do un pezzo di magnocca perché il mio babbo me lo tira dietro quindi la cosa è semplice anche lì ci vorrebbe formazione invece spesso ci sa soldi si figlia la prima e viene lei non è formata magari sta con lui è tutto un affare la formazione è sempre quello che svolta però questa donna a un certo punto gli disse ma lei mi disse sai Daniela è una trappola migrare mi disse io non sono più niente non sono più italiana non sono più senegalese mi disse perché quando migri non si torna più indietro non torni più indietro è una scelta radica della tua vita anche se ti sentirai bene qui troverai una bella situazione ma quella terra ti mancherà ma quando vai là ormai sei anche un po' qui e quindi questo smarrimento dell'origine nonostante poi lo recuperi sempre che non è necessariamente brutto è semplicemente uno sbarrimento che accade e quindi a volte quando non riesci a viverlo bene gli diventa un po' difficile e poi quando parlavi dello spazio ricordo che con una ragazza peruviana lei ascoltava la musica e lei mi disse mi manca l'aria perché l'aria nel Perù sono altipiani altissimi dove noi si arriva su si asca a terra o si perché non si riesce a respirare loro vivono con quelle per noi sono apnei ma per loro sono un'area molto rarefatta di un altipiano è un'area che toglie il respiro e lei qui le mancava quella era soffocata dallo smog era soffocata proprio diceva con fatica non riesco a respirare proprio aveva difficoltà che sembra una volata è come quando gli dici mangia un pochino di maiale oppure via mangia l'olio e l'olio per loro si deve abituare lentamente tantissimi chiocciano l'olio non è che hanno l'olio l'oliva capito quindi è un casino come noi quando siamo andati là è tutto stato molto lento è un processo lentissimo io ero con la mochina fissa e mi ricordo una volta feci la pipì in congo perché il bagno razzi il bagno quello è un traumatico e quindi si faceva ormai gli ultimi giorni dappertutto non c'erano problemi le bue vanno bene e entrai in un bagno mi fa devi andare là no non ci voglio andare non ci voglio andare sì sì devi andare là insomma entrai apro la porta c'era un sciame di zanzare e disse più io la malaria perché tutte le fisse apro la porta escono tutte le zanzare richiudo la porta rientrano tutte ho detto va bene la faccio qui però lì era proprio loro era figura che era uno dei bagni migliori e c'era capito è sempre un problema di prospettive per cui a un certo punto arrivi te che devi trovare un modo per relazionarti dopo un po' per me era bellissimo quando sono arrivata qua l'energia cioè io leggevo con la luna luna che è tutta follonica va bene per cui arrivavo qua e dici madonna mi so che accendere la luce non leggo più il libro con la luna no sembra assurdo no sembra una volata e penso per loro sia la stessa cosa insomma andiamo a concludere l'ultima cosa appunto chiedendoti di Conrad quanto Conrad rimane in questo spettacolo nella sua profonda capacità di attraverso il tema del viaggio i suoi romanzi sono quasi tutti incentrati sul tema del viaggio dalla linea d'ombra a cuore di tenebra e ogni volta io ritengo che sia stato uno degli autori che ci ha dato tra gli spunti più grandi pensiamo appunto all'idea straordinaria di trasformare cuore di tenebra in Apocalypse Now sembra scritto apposta sia la sceneggiatura di quel film e quindi la sua capacità attraverso il viaggio di arrivare in profondità nell'animo umano lasciandoci proprio a ciascuno di noi la nostra interpretazione perché il narratore in qualche modo è lì che narra semplicemente quasi da esterno tutto quello che sta succedendo però arriva sempre dentro appunto al nostro animo umano a porti dalla parte appunto o del naufrago o di chi l'accoglie però comunque a metterti in una dimensione in una prospettiva in cui ti poni delle domande alle quali non necessariamente arrivi a dare una risposta ma ti poni delle domande profonde quindi è un come dire uno scoprire anche effettivamente la fragilità dell'essere umano ecco tutto questo quanto ritorna nel vostro spettacolo e senza spoilerare il finale se la frase con cui si chiuderò il libro perché l'avete portata sul palco scenico oppure no credo di sì in modo diverso liberi perché sai quando affronti un gigante in questo modo bisogna a un certo punto tu lo allontani un po' perché lui ti prende ti mangia un po' no e mi chiedo tutte le volte se lo abbiamo rispettato non lo so mi sarebbe piaciuto averlo in sala per dirgli come è andata perché ti è piaciuto no però un po' credo che ci sia molto di lui dentro credo che abbiamo lo abbiamo rispettato per esempio anche nel finale ora non ve la posso dire ma insomma ma no ma una cavolata però io prendevo posizione tendo sempre tendiamo io in particolare insomma alcuni di voi magari sono più bravi a prendere sempre posizione così e invece poi mi ricordo che la prima sera arrivò uno scrittore tra l'altro Livornese e mi disse lui non l'avrebbe mai scritta così perché lui non prende posizione hai ragione via via però per dire no è buffo a volte non te ne accorgi mentre fai le cose invece gli altri è sempre parecchio bello quello che ti dice spero che ci sia poi spero che lo leggerete e che vi possiate appassionare anche voi a questo breve raccontino a questi personaggi anche a quelli brutti brutti ce ne sono diversi brutti brutti e sì a riscoprire anche un po' d'umanità necessaria perché lo siamo non perché ci hanno detto che non dobbiamo essere disumani semplicemente perché lo siamo e quindi rispettandoci insomma riprendendoci un po' in mano grazie a te perché è stato bellissimo grazie in bocca al lupo è Natale buon Natale che la possiate godere con le persone a cui vi vede bene insomma Natale fa sempre quella roba no? che ti viene da piangere anche se non tu sta bene non lo so a voi ma io vedo le lucine e mi è un uovo in bocca al lupo grazie a te grazie a te